Gentili telespettatori buona giornata, vi rendo partecipe del nuovo giochino che sta facendo Salvini, giochino strategia, abbiamo visto che con le strategie Salvini non è propriamente forte, lui e Giorgetti in quanto a strategie diciamo che sono stati bocciati, me l'hanno bocciati perché perdere 8 milioni di elettori col giochino sino forse bisogna essere veramente dei geni incompresi credo, nessuno sarebbe riuscito a fare peggio credo, e così arriva la nuova strategia sulle pensioni. Allora lui ha capito perfettamente che Draghi fa quel cacchio che gli pare, completamente, anzi più passa il tempo più prende confidenza con questo lavoro, più passa il tempo e meno considera i politici. Quindi Salvini ha detto faremo le barricate, nome che mi provoca l'orticaria ogni volta che lo sento, le barricate, veramente una metafora fastidiosa ma dire fastidiosa è poco, naturalmente le barricate metaforiche faremo barricate dentro e fuori dal Parlamento in modo democratico diceva, cioè si opporrà, vuol dire le barricate, vuol dire mi oppongo con tutti i mezzi democratici in Parlamento e fuori, quindi vuol dire faremo le manifestazioni, ma manifestazioni non ne farà. In Parlamento significa dire no, sia nel Consiglio dei Ministri, sia alla votazione dire no, ma lui non lo farà, lui dirà sì in Consiglio dei Ministri e sì in Parlamento. Quindi le metaforiche barricate non esistono e non esisteranno. Coerenza al mille, per mille. Allora che cosa gli rimane da fare? E qui arriva la furbata, tra parentesi, perché furbata non è, la furbata di Salvini. Lui scrive a Draghi per le pensioni. Un giornale scrive, l'obiettivo è chiaro, mettere a punto, tra le due forze del centrodestra, Forza Italia e Salvini, che hanno deciso di sostenere il governo Draghi, proposte comuni per far pesare di più il loro contributo. E in realtà... Sì, Salvini sta chiedendo a Berlusconi, fammi fare il capo del centrodestra, Berlusconi ha detto va bene, però tu mi fai presidente della Repubblica... Allora, Salvini, il suo intento qual è? Visto che Draghi ha già deciso che quota 100 finisce il 31 di dicembre e automaticamente riprende la legge Fornero, che è una legge dello Stato. Non c'è nessun ritorno, la sinistra vuole la legge Fornero, la sinistra non vuole niente. La legge Fornero è già una legge dello Stato e quando termina il 31 di dicembre, quota 100 che aveva una data di scadenza, riparte la legge Fornero. Non arriva, ritorna, la rivotano, no. Non vi fate convincere che la sinistra vuole la legge Fornero perché c'è già, è già la legge. Solo che Draghi dice bene, per il prossimo anno 2022 facciamo quota 102, cioè al posto che 62 anni si va in pensione 64. E poi facciamo, l'anno dopo, nel 2023, facciamo quota 104, cioè quattro anni in più per andare in pensione. Così lo scalone lo facciamo diventare degli scalini. Poi finito il 2023, è soccacchi tua, nel senso che si va in pensione, se non sbaglio, a 67 anni. Allora, il giochino di Salvini è questo. Draghi ha già deciso. Lui chiede un incontro. Monta su alla stampa, vado a parlare con Draghi, mi porto Berluscao, Meravigliao, viene anche la Meloni. Lui si pone come il capo del centrodestra che va a trattare sulle pensioni, perché lui aveva promesso le metaforiche barricate che non farà, voterà quello che decide Draghi. Allora, per giustificare all'elettorato rimasto che lui è sempre il capitano che vince, chiede l'incontro con Draghi. Va lì, si porta Berlusconi, magari va la Meloni, chi lo sa, e ne uscirà dall'incontro dicendo «Ce l'ho fatta, grazie alla Lega, nel 2022 ci sarà quota 102, saranno solo due anni, solo, solo, eh, solo due anni in più di lavoro, di tempo per andare in pensione». La Lega ha fatto il possibile, è riuscita, abbiamo vinto, è merito nostro se gli italiani non vanno in pensione a 67 anni, è merito della Lega. In realtà, lui va lì, Draghi ha già deciso che c'è quota 102, ma lui va ed esce, poi dichiarando ai giornali, a tutte le televisioni, che lui ha fatto una trattativa e ha vinto. Avete capito qual è il giochino? Andare lì, fare una finta trattativa e uscire. Mi ricorda Conte, vi ricordate quando Conte è andato da Draghi e Draghi gli ha detto «Quindici minuti perché ho da fare, eh? Mi dica, ci dica, ci dica, ci dica». Allora, Conte, prima di uscire, dopo quindici minuti, chiede a Draghi se c'ha una stanzetta che deve fare una telefonata urgente. Cosa fa Conte? Va nella stanzetta, si chiude dentro un'ora, non aveva nessuna telefonata da fare, ma doveva far passare tempo perché c'erano fuori i giornalisti che aspettavano e doveva far passare l'idea che lui aveva parlato, fatto una trattativa con Draghi, si erano confrontati. Invece quello aveva detto «Mi scusi, dottor Conte, quindici minuti ma ho degli impegni». Allora, la genialata di farsi dare una stanzetta, star lì per poi uscire, con i giornalisti che dicono «Cavolo, è dentro da un'ora e un quarto, eh? Caspita, che leader!» E invece era «Manco il tempo di salire» ed era già praticamente fuori. Allora mi viene in mente Salvini che chiede a Draghi un incontro sulle pensioni per andare lì e far finta, poi quando è uscito, di dire «Uè, la Lega, ringraziate la Lega, eh? Tutta Italia deve ringraziare la Lega perché abbiamo quota 102, eh? Eh? Ma Draghi l'ha già deciso, è già nella proposta, è già lì, c'è già scritto. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Io vi ringrazio e vi ringrazio.